La parola è tutti i rindrogneggi in questa maniera, eh? No, scusa, è che stavo vedendo che c'era un piccolo problema con Twitch. Cioè, di una frase, non è che bisogna intervenire dieci volte quando tu dici una cosa. Problema Twitch! Ho capito cosa! Che ogni tanto si blocca la live, ma non credo sia un problema nostro. Come un problema nostro? Non è, però sembra bloccata. Te la posso confermare? C'è un attimo bloccata, sì. Ma come bloccata? Ma non si era mai bloccata. Ma io la vedo clean. Io no. Ma è schermo nero che gira all'infinito. È messo la certi, mi sa. Ma aggiorna, prova, boh, non lo so. Dai, ma è sgangherato! Ma non ci segna la Twitch. C'è un problema di Twitch. Ma deve sgangherarsi proprio mentre noi siamo in live, scusa? Cioè, io... E io ho delle lezioni, poi. È molto importante. Vedo schermo nero. Vedete schermo nero? Ma sentite? Da quando ho scritto io non ho mai visto niente di strano. Ma guarda che anch'io vedo schermo nero, comunque. No, aspetta, ora vedo. E che ogni tanto si blocca. Ok, si riprende. Si riprende. Wow! Ho capito, ma è molto brutta questa cosa qui, eh. Eh, lo so, lo so. Magari non si sentiva neanche. Eh, già, perché se carica mi sa che non si sente. Ragazzi, cioè, non sentivate niente? Vedevate tutto nero? Che schifo, però, dai! Ma adesso si dicono, tutti adesso si dicono. Grazie, naghi. Grazie, naghi. Hai aggiustato? Eh, sì. Eh, infatti ho notato che era sgangherato. Eh, non lo so, si sta sgangherando. È una rotta momentanea, magari. Per esempio, a me invece no, è bloccato. No, è Lion Guardi. Ma sarà un problema di Twitch? Eh, certo che è un problema di Twitch. Sì, però, con le connessioni, probabilmente, chi ha la stessa connessione, tipo noi, Pierina, ce l'abbiamo uguale, la connessione. Dai! La vedo, la vedo! Appena riparte a te, riparte a tutti, quindi... Eh, ma è tutto nero! Qualcuno vede, ecco, la vedo, non lo so se sei fissato. Eh, sono in tanti che la vedono, però probabilmente... Anna, mi porti dell'acqua. Anzi, ho portato il tutto. Eh, ho finito. Di già! Eh, è trinchato di brutto! Dai, guarda, c'è scritto errore. Ok, forse c'è, eh. Io la vedo adesso. Stanno scrivendo tantissimi. Ok, vedete di nuovo? Ok, sì, conferma che a me è ripartito tutti i meccanismi. Ah, ok, infatti anche il chat ci dice. Io la vedo, io la vedo, c'è, c'è, c'è. Allora, venite al Parlamento, signori. Andiamo a leggere. Oh!